Avvocato Donnici, in questi giorni il problema rifiuti nella Sibaritide e un po' in tutta la Calabria, a dire il vero, sta prendendo le prime pagine dei giornali, non solo locali ma nazionali, addirittura si è occupato strisce alla notizia. Voi qui a Mandatoriccio come state gestendo questa emergenza? Sì, noi praticamente ci siamo fatti carico di quello che noi sapevamo sarebbe diventato un vero problema perché stiamo parlando di un'emergenza regionale che è in atto per la verità non da oggi. E allora abbiamo programmato più tipi di interventi. Appena insediati come amministrazione comunale abbiamo avuto molto a cuore tutto ciò che riguardava l'ambiente, quindi le problematiche connesse a dare un servizio più pulito al cittadino, praticamente a riprendere in mano le file di un discorso che ci sembrava quello più fondamentale e necessario. Abbiamo quindi iniziato da subito, circa tre anni fa, una raccolta differenziata spinta, cioè con delle postazioni all'esterno nelle quali noi abbiamo cominciato a testare la popolazione per il converimento del materiale di carta, multimateriale e velo. Come ha risposto allora la popolazione? Nel breve volge di qualche settimana, qualche mese, la popolazione abbiamo cominciato subito a verificare che era molto disponibile a questo tipo di attività. Da qualche mese invece siete passati alla raccolta porta a porta, sempre differenziata. Sì, solo dopo aver sperimentato la disponibilità e quindi aver pure praticato questo tipo di servizio, abbiamo pensato che fosse giunto il momento di passare proprio al porta a porta, cioè la raccolta che viene fatta tutte le mattine presso i domicili dell'utenza. Per cui adesso noi abbiamo un servizio molto efficiente porta a porta, attraverso il quale per quattro giorni alla settimana vengono ritirati le carte, i cartoni, i materiali, i multimateriali, l'umido ed il secco residuo. Questo materiale dove va a finire poi? Noi abbiamo, per quanto riguarda il multimateriale, per quanto abbiamo la carta e il vetro che raccogliamo con dei contenitori più grossi che ci sono, abbiamo appunto, vengono smaltiti attraverso i centri del Conai. Per quanto riguarda invece l'indifferenziato, fino a quando c'è stata la crisi di Bucita, noi ci riservevamo, appunto, il nostro appaltatore utilizzava Bucita per il versamento della parte rimanente. Siamo già a buoni risultati, abbiamo una buonissima percentuale che praticamente abbiamo raggiunto di raccolta differenziata e che ci conferma la bontà della scelta e soprattutto, quello che vorrei dire alle autorità sovracomunali, l'assoluta disponibilità, la prontezza da parte delle popolazioni, che è disponibile, se viene opportunamente sollecitata e quindi, come dire, spinta ad utilizzare un sistema che è l'unico che ci consente di vivere in un ambiente veramente pulito e tranquillo per le nostre generazioni, risponde molto positivamente. Lei pensa che quindi gli altri comuni, anche i comuni più grossi, come ad esempio nel territorio del comprensorio Rossano, Corigliano, altri comuni possano fare questo tipo di raccolta? Cioè questo tipo di raccolta si può trasportare anche in comuni più grossi? E perché no? Io non penso che ci siano controindicazioni, anzi. Io penso che è un metodo, è l'unico metodo per uscire fuori da questo ricatto delle continue buche, delle discariche che non sono la soluzione al problema. Perché le buche si riempiono, come tutte le buche, se noi buttiamo indifferenziatamente tutto all'interno di quelle buche, le buche sono destinate a durare il breve volgere di qualche anno, come è successo per la questione di bugita, che è diventata quella che è diventata dopo 3-4 anni di attività. Sì, io penso che tutti i comuni debbano essere messi in condizione di, anche a livello sanzionatorio, stabilendo per esempio che i comuni che non attuano un sistema porta a porta siano, perché no, sanzionati. E comunque, prevedendo per i comuni come il mio, che si impegnano, che quindi utilizzano oneri maggiori verso questo tipo di servizio, verso questa nuova cultura, debbano essere invece ritenuti virtuosi e quindi devono essere aiutati. La sua posizione sulla discarica privata di Scala Cieli, prossima alla riapertura, sembrerebbe? Ma la posizione è una posizione chiara. Prossima alla riapertura non lo so, semmai prossima all'apertura, perché seppure le notizie giornalistiche parlano che Scala Cieli sia stata aperta, questa non risulta. È la posizione del territorio, di un territorio che non condivide delle scelte calate dall'alto, che non condivide appunto una scelta nella quale non siano stati partecipi i sindaci di tutto questo comprensorio e che quindi vede non di buon occhio una buca che praticamente ancora una volta rimanda alle gestioni di tipo privatistico, quello che dovrebbe essere invece una gestione di tipo pubblico, sulla quale devono intervenire gli enti territoriali, oltre che la Regione. Anzi, forse è venuto il momento di ripensare le competenze e le funzioni in questa materia di ridare ai sindaci, che sono i diretti responsabili della gestione della salute e dell'igiene nei territori, la competenza anche in materia di rifiuti.